salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su senza giri di parole allora volevo fare la reaction con voi della conferenza stampa che non ho ancora visto di di lorenzo e manna sicuramente molto più interessante di quella di giuffredi per cui non abbiamo fatto un video semplicemente perché giuffredi è storicamente contraddittorio e sono inutile veramente inutile cercare di polemizzare sulle sue parole che sono state per l'ennissima volta contraddittorie rispetto a quello che aveva detto in altre occasioni quindi mi fa piacere piuttosto che sia il capitano a disporsi una volta per tutte al di fuori della lettera quindi potendo anche rispondere alle domande dei giornalisti e poi soprattutto mi fa mi fa piacere vedere manna che non ha ancora avuto la concreta opportunità di parlare quindi spero che i giornalisti riescano a cogliere anche questa occasione per farci conoscere di più il direttore quindi vado bando alle ciance andiamo a sentire cosa hanno da dire ai protagonisti capitano semplicemente raccontaci tu cosa è successo prima durante e dopo ma intanto sono contento finalmente di poter parlare perché fino a questo momento non l'ho fatto ma non per mancanza di coraggio ma perché comunque abbiamo dei vincoli contrattuali e quindi non potevo rilasciare dichiarazioni ma quello che è successo ci sono stati vari episodi durante la stagione che poi ha detto anche il presidente dovuti sicuramente al nervosismo alla confusione di un'annata brutta però quello che mi interessa più di tutto in questo momento che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di rimanere a Napoli e questa è la cosa più importante e ci tengo a chiarirlo quindi finita la stagione mi sono preso un po' di tempo e ho parlato sia con il direttore con il ministero con il presidente la mia volontà è stata quella di rimanere lo faccio con grandissima voglia con grandissimo entusiasmo ok da questa risposta posso premettere che probabilmente non avrà voglia di scendere nei dettagli ora io non so come si comporteranno i giornalisti di qui in avanti probabilmente cercheranno di fare delle domande più specifiche però diciamo che sembra non volersi esporre più di tanto su quello che è accaduto piuttosto sul risultato della vicenda cioè come si è risolta e io sono d'accordo però per parlare del risultato del risvolto della vicenda non abbiamo bisogno di una conferenza stampa Giovanni riferito a di Lorenzo perché poi ci sono due Giovanni qui effettivamente non c'era bisogno sappiamo già com'è finita la conferenza dovrebbe servire per l'appunto a fare chiarezza comunque già sono dispiaciuto che il primo giornalista abbia completamente ignorato manna che io invece vorrei sentire cosa ha da dire Giovanni buonasera nelle due sedute di allenamento che hai fatto qui ieri ed oggi ho visto un bellissimo rapporto con i compagni di squadra oltre che con i tifosi ti chiedo le emozioni che hai provato a ritrovarli e se qualcuno durante questa vicenda ha provato a convincerti a restare a Napoli ma non ho mai avuto problemi con i miei compagni di squadra mai avuti e nemmeno con le persone diciamo che 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 lavorano nel mondo del Napoli quindi sicuramente mi hanno accolto tutti bene sono stati due giorni già faticosi perché il minister fa lavorare tanto però come ho detto sono nel posto giusto sono nel posto dove voglio essere e questa è la cosa più importante un buon pomeriggio ad entrambi capitano la figura di di conte ecco quanto ne hai avvertito la presenza forte la volontà sua di far sì che tu rimanessi a a Napoli e se posso insomma ne faccio una una seconda ti vediamo giocare spesso nei tre di difesa ecco se quello è è un'interpretazione del del ruolo che che ti piace che può diventare qualcosa in più di un esperimento tipico da da ritiro estivo grazie ma col mister ho parlato varie volte in questo mese diciamo però ci tengo a precisare una cosa lui ha svolto un lavoro importante in questa in questa vicenda come l'ha fatto il direttore presidente però voglio che sia chiaro che io sono rimasto a Napoli perché voglio rimanere a Napoli poi sicuramente non sono rimasto per conte questo ci tengo a metterlo bene in chiaro allora faccio una piccola pausa e vi dico questo è normale che venga detto cioè la cosa grave la cosa grave è che il suo procuratore ha detto il contrario ripeto noi non abbiamo voluto fare la reaction a giuffredi anche per quelle parole perché sono parole ingiustificabili ragazzi intendiamoci mettiamo caso che sia vero mettiamo caso che di lorenzo sia rimasto per l'arrivo di conte come ha detto giuffredi ma puoi mai dirlo e se lo dici noi dobbiamo togliere i gradi da capitano a di lorenzo perché è un personaggio a quel punto puoi chiamarlo solo così che è rimasto soltanto a causa di circostanze fortuite e se fosse arrivato gaspirini non sarebbe rimasto quindi voi capite bene che adesso non è importante capire a chi dobbiamo credere dobbiamo credere a giuffredi dobbiamo credere a di lorenzo cioè non vi do neanche la mia opinione perché è irrilevante il problema è che questo è ciò che si deve dire è normale che di lorenzo debba sostenere di non essere rimasto soltanto perché è arrivato conte poi è normale che nessuno deve farsi imbottigliare deve farsi stupido cioè è normale che ha contribuito poi non sappiamo in che parte però è normale che l'arrivo di un allenatore talmente blasonato talmente carismatico è normale che abbia inciso nella sua permanenza in che misura non lo potremo mai sapere ma quello che ha detto giuffredi è semplicemente assurdo dirlo così a mezzo stampa quando poi lui si dichiara un grande comunicatore ecco è un errore grossolano che ovviamente di lorenzo vuole rimediare e infatti lo sta rimediando mister non sto qui a presentarlo io so che persona è so come lavora so che con lui comunque tante dinamiche che ci sono successe a me e ai miei compagni nell'arco della scorsa stagione non ci saranno perché ha una gestione comunque importante ha una gestione che viene da squadre importanti quindi sotto questo aspetto qui è diciamo è dire sono rimasto per conte ma non sono rimasto per l'allenatore io sono rimasto perché sto bene a napoli e perché le persone che mi conoscono sanno quanto ci tengo e quanto amo a giocare per per questa squadra e poi per il ruolo non lo so insomma nelle conversazioni con il mister mi ha detto che mi può impiegare sia come braccetto sia come quinto quindi in base poi alla partita penso che deciderà lui la miglior posizione dove utilizzarmi buonasera carità buonasera direttore partendo da di lorenzo ehm al netto di tutto quello che è accaduto si è ripartiti su un tornato di nazionale è tornato di lorenzo è tornato un abbraccio fortissimo da parte dei tifosi ecco come cosa hai provato quando al primo al primo passo sul campo del patini hai sentito quell'abbraccio della tifoseria e poi al direttore manna una considerazione insomma sul mercato sulla posizione di oggi man grazie ma sicuramente c'è grandissimo entusiasmo come sempre e anche a me dopo questa vicenda diciamo mi hanno accolto tutti tutti bene io oggi era giusto che parlassi per chiudere diciamo un cerchio e mettere un punto e ripartire con grandissima voglia entusiasmo come ho detto poi so che magari una parte della tifoseria può avere ancora un po' di rancore nei miei confronti però quello starà a me attraverso le prestazioni attraverso il campo poi a a riconquistare la fiducia di di quei tifosi che magari ancora sono un po' arrabbiati con me e quindi ce la metterò tutta e starà a me poi eh ripagare la la loro fiducia buon pomeriggio a tutti eh tendo a precisare che siamo qui oggi per mettere una parola fine a quella che è stata questa tenelovela estiva quindi penso sia inopportuno e non e non corretto parlare di mercato in questa sede oggi eh quindi preferirei non parlarne tutto qui giusto? giusto? allora torniamo a eccoci allora anche in questo caso credo che la risposta fosse abbastanza scontata di di manna ma credo che l'avrebbe fatto in qualsiasi sede cioè se avessero fatto una conferenza stampa di presentazione unicamente di manna credo che avrebbe risposto allo stesso identico modo come potete immaginare perché la situazione è così tanto bollente in questo momento che lui non può non può assolutamente riferire nulla quindi credo che sia perfettamente normale ehm che risponda così vi dico di più quest'anno i giornalisti ci stanno azzeccando abbastanza ora non so perché magari c'è una vicinanza con lo staff di Conte quindi traperano più voci ma insomma eh siccome sono state prese un po' la maggior parte delle voci a quanto pare solo quella di Hermoso eh come infondata completamente infondata poi dovremmo vedere in che misura ehm per l'appunto tutte le altre sembrano veritiere sembrano starsi avverando quindi se mi devo fidare devo anche credere che effettivamente la situazione con Osimene sia talmente turbolenta che dobbiamo aspettare cioè non può esprimersi manna sarebbe completamente controproducente eh no io voglio insistere su questo aspetto dei tifosi perché è importante no sai Maradona ha indossato la fascia di capitano anche lui è capitato di di avere i fischi in un famoso Napoli-Pisa e forse quello è stato il momento in cui ci sei rimasto male e allora ce l'hai davanti i tifosi eh che cosa vuoi dire per per cercare di di ricuscire ecco quello che hai detto prima c'è una parte che non che non è convinta c'è c'è rimasta male ce l'hai tutti davanti che cosa qual è il tuo slogan per questa stagione ma mi allaccia a quello che ha detto il mister penso che bisogna parlare poco e dimostrare con i fatti quindi come ho detto sarà a me attraverso le prestazioni in campo a riconquistare questa parte dei tifosi che ancora è arrabbiata un po' con me per per tutta questa vicenda ecco però ripeto io ho grandissima voglia e un grandissimo entusiasmo per ripartire per ripartire tutti insieme perché ci aspetta davanti a una stagione sicuramente difficile ma importante per tutti ciao Giovanni ehm sono qui volevo chiederti ieri i tifosi del Napoli ti hanno accolto con un coro emblematico c'è solo un capitano ti aspettavi un'accoglienza del genere? ma eh ci speravo perché comunque eh come ho detto so che magari qualcuno è rimasto ferito no da tutta questa vicenda però i tifosi mi hanno sempre dimostrato ho fatto grande attaccamento e eh insomma quando vado in giro per la città tutti mi accolgono benissimo quindi eh fa piacere fa piacere questo questo coro che mi hanno fatto e ripeto io eh darò il massimo come ho sempre fatto per cercare di di riportare il Napoli dove compete salve Giovanni intanto grazie proviamo ad archiviare quanto accaduto perché sei stato abbastanza esaustivo la mia curiosità è questa nella passata stagione anche attraverso le parole del tuo agente abbiamo capito che ti sei trovato a rivestire un ruolo talvolta anche da dirigente cosa è cambiato oggi con l'arrivo di Conte e che apporto può dare Conte a tutto l'ambiente grazie ma come ho detto eh so che il mister ha una personalità molto forte e sicuramente con lui cambierà un po' la gestione anche di non della società però del campo di di qualche situazione extra campo ecco quindi eh poi abbiamo un nuovo direttore sportivo e e tutto sta andando per per il verso giusto e il mister ha raccolto grandissimi risultati con con le sue squadre noi dovremmo seguirlo eh seguire eh passo passo quello che che ci chiederà e sono sicuro che poi riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni Buongiorno eh ti chiedo faccio un passo indietro tu prima hai detto non sono rimasto a Napoli soltanto per Conte e però ti chiedo che cosa è cambiato da da quel periodo in cui insomma tu non hai avuto una sofferenza anche morale psicologica non non eri tranquillo a oggi che invece sei il capitano del Napoli hai detto che vuoi eh intraprendere un altro percorso un nuovo ciclo eh qual è stato lo switch di 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 questa situazione grazie ma io eh non ho mai avuto dubbi su sull'amore che ho per eh per il Napoli per questa piazza e che i tifosi hanno per me io come ho detto ehm è stata una cosa magari dettata da dal nervosismo da da dall'andamento di una stagione che non riuscivamo a cambiare poi ho parlato con la società a fine della stagione ci siamo parlati e poi ho deciso di di prendermi un po' di tempo sono andato in nazionale e poi a bocce ferme la voglia di di rivalza la voglia di di stare qua eh era maggiore a quella di andare via quindi ripeto sono veramente contento di essere rimasto e pronto per per iniziare questa nuova stagione ciao Giovanni buon pomeriggio il mister si è già espresso in maniera molto chiara sulla qualità di questa squadra però la consapevolezza è un aspetto molto importante nel calcio che cosa deve succedere perché voi ricominciate ricominciate a pensare da squadra vincente perché appunto consapevoli di tutte le vostre qualità e poi se posso un pensiero per le vittime di scampia grazie ma la prima cosa già successa che era quella che finisse la stagione passata adesso si riparte da zero si riparte con con grande voglia e si azzerano un po' tutti tutti i punteggi no quindi ripartiremo da zero con una grandissima voglia di di far bene questo deve essere la base di tutto e in questi due giorni ma comunque mi sono sentito anche con qualche mio compagno nel primo ritiro c'è grande disponibilità e si lavora in maniera forte ma con criterio e questa è la cosa più importante e quindi insomma non vediamo tutti di iniziare la stagione per per rendere i tifosi fieri di noi e sicuramente per le vittime di di scampia un grande un grande abbraccio dispiace è successa una cosa tragica quindi mando un caloroso abbraccio da parte mia da parte di tutta la squadra che ne abbiamo parlato anche in questi giorni se era possibile aiutare e fare qualcosa quindi vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile quindi mando grande abbraccio sicuramente e ma un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della prossima amichevole una giocata che riusciva molto bene due anni fa poi l'anno scorso no perché non è riuscito tutto l'anno scorso non è riuscito niente ti vedeva coinvolto cioè creazione lato forte con anch'issà che andava dall'altra parte e tu andavi a prendere la sua posizione entrando nel campo ti chiedo se ne hai parlato con conte allenamenti no perché ne avete fatti pochi tattici e se riproponibile anche partendo da braccetto da quinto visto che questa giocata della quale parlo la facevi partendo ovviamente da con la difesa a quattro ma ormai il calcio è diventato molto dinamico e si parla di moduli magari solo in fase di difensiva come come difendere come andare a prendere la squadra avversaria poi una volta con con il possesso della palla dobbiamo muoverci e sicuramente anche se è cambiato il modulo possono essere giocate che ritroviamo in campo e sicuramente proveremo quelle che 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 ci chiederà il mister come ho detto prima dobbiamo seguirlo passo passo perché è un grande allenatore e sono sicuro che ci darà una grande mano per fare una bella stagione buonasera direttore manna buonasera al di là dell'attaccante del profilo dell'attaccante del napoli le chiedo se domani mattina come domani pomeriggio cominciasse il campionato lei rispetto alle idee di gioco del mister ritiene questa squadra completa e soprattutto competitiva per quali obiettivi e a di lorenzo se con questo nuovo modulo c'è un nuovo sistema di gioco cosa cambia nel suo nel suo modo di esprimersi se magari aumentare la propensione al gol se se cambia qualcosa grazie diciamo che sarebbe abbastanza clamoroso se mettendosi da braccetto aumentasse la propensione al gol perde perde possibilità di salire quindi mi sembra abbastanza assurda come domanda ma lasciamo stare allora noi quello che abbiamo cercato di fare è di poter dare all'allenatore sin dai primi giorni di ritiro una squadra che potesse essere il più competitiva possibile per affrontare eventualmente il campionato subito è chiaro che ci saranno dei movimenti perché c'è ancora un mese di mercato e potremmo fare degli inserimenti è un percorso è un progetto che sta iniziando quest'anno che vede l'allenatore centrale condividiamo un'idea e una strategia con tutte le componenti del club siamo tranquilli abbiamo le idee abbastanza chiare ma non faremo cose folli faremo cose funzionali a quello che è il nostro la nostra idea in questo momento tecnico tattica che va a supporto dell'allenatore tutto qui ciao giovanni perdonami sono qui sono qui ritorno al discorso chiaramente per cui siamo qui ti chiedo abbiamo capito che tu ti sei sentito abbandonato dalla società è quello che poi hai dichiarato tu il tuo procuratore anche lo stesso dell'aurentis e poi pare che la goccia un po che abbia fatto traboccare il vaso sia stato un colloquio un dialogo tra il direttore manna e te ti chiedo però questo dialogo il direttore chiaramente nuovo arrivato l'ha avuto con tutti come mai tu ti sei sentito così particolarmente toccato scusate lo so che rispondere a di lorenzo ma mi sembra una domanda un po stupida perché è normale che quella discussione di cui si è tanto parlato che hanno avuto manna e di lorenzo all'arrivo di manna è stata la la goccia che ha fatto traboccare il vaso c'è di tutta una serie di torti che di lorenzo evidentemente pensava di aver subito queste domande sono domande insulse ma io lo dico per noi ragazzi lo dico per noi non vuole che io voglia offendere i giornalisti lo dico per noi tifosi che giustamente guardiamo queste conferenze per trovare chiarezza in quello che è accaduto per trovare un po di luci nelle ombre e poi i giocatori i protagonisti si ritrovano queste domande con risposte scontate ma che cosa potrà mai rispondere di lorenzo potrà dire che gli interessa ciò che è stato detto a lui no ciò che gli hanno detto ha detto manna ad altri giocatori così come dirà probabilmente che per l'appunto c'è tutta una questione che si era venuta a creare e quella era soltanto una delle tante cose che l'aveva infastidito e queste sono cose normali cioè se tu gli vuoi fare una domanda che lo metta in difficoltà deve essere una domanda ficcante altrimenti sta conferenza è completamente inutile ma dipende il contenuto del dialogo quindi avrà parlato sicuramente con tutti i calgiatori a me interessa quello che ci siamo detti io al direttore ma è una cosa come ho detto che è passata io sono qua a parlare perché era giusto che parlassi in questa vicenda ma è per mettere un punto e per andare avanti più forti di prima tutti insieme quindi come ho detto io mi sento di essere nel posto giusto io voglio giocare per il napoli voglio giocare a napoli e quindi ripeto sono contento di iniziare questa nuova stagione questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore con un nuovo direttore e non è questo Buonasera, benvenuti, chiedo a Lorenzo se ci racconti quello che era successo al termine del campionato quando sei stato sostituito e sei stato fischiato cosa hai provato al momento dell'uscita poi una per il direttore, grazie ho provato un dispiacere ma i tifosi sono liberi di fischiare, di applaudirci quindi ripeto è stata un'annata storta per tutti la cosa più importante è che sia conclusa e che adesso ripartiamo ripartiamo tutti insieme, uniti quindi è questa, io sono veramente ho grandissima voglia per iniziare questa nuova stagione per anche zittire un po' tutti quelli che si sono un po' permessi di andare oltre con qualche commento, con qualche dichiarazione quindi ripeto preferisco parlare poco e dimostrare con i fatti come sempre fatto sul campo al direttore chiedo un attimo perché voglio chiarire una faccenda con voi più che altro perché di Lorenzo ha dato la risposta che doveva dare vorrei che non ci dimenticassimo che l'origine di quei fischi era principalmente dovuta a due fattori il primo fattore è il ruolo simbolico che aveva di Lorenzo nella squadra essendo il capitano quando tu nelle ultimissime partite stagionali fischi il capitano stai fischiando la squadra principalmente cioè stai fischiando il simbolo della squadra stai fischiando manifestando il tuo disappunto e la tua delusione per la performance stagionale quindi certamente di Lorenzo la prende sul personale vabbè però essendo capitano dovrebbe capire che su di lui si riversano non solo gli onori ma anche gli oneri perché attenzione quando c'è stato da prendersi gli onori di Lorenzo se li è presi è stato il capitano della squadra che ha vinto lo scudetto l'unico capitano della storia del Napoli ad aver vinto lo scudetto dopo Maradona dopo il primo Maradona quindi voglio dire è in dubbio il secondo fattore che è ancora più importante è che all'epoca vi ricorderete benissimo che era uscita la notizia anche piuttosto affermata perché era stata riportata da tutti i principali giornali nazionali poiché che siano affidabili o meno non ci interessa è semplicemente arrivata perché si era espansa a macchia d'olio questa notizia che di Lorenzo avesse un accordo con la Juventus quindi è quella poi l'origine dei fischi è un'origine duplice però non è che uno l'ha fischiato perché lo voleva fischiare per punirlo della stagione io credo che questo sia stato l'ultimo dei motivi per cui c'è stato quel disappunto manifestato dai tifusi napoletani però vabbè tendiamo a dimenticarlo come se i napoletani avessero voluto fare uno sgarbo a Di Lorenzo a prescindere dai nomi Ossimene, quelli che si fanno c'è una tempistica per cui di concetto con l'allenatore la squadra debba essere completata per l'inizio del campionato oppure si proverà anche a aspettare qualche offerta qualche occasione di fine mercato per raggiungere quell'idea di squadra che avete? Grazie Il mercato spesso è fatto di opportunità e quando si presentano queste opportunità bisogna decidere se si colgono o meno il mercato chiude il 30 di agosto ripeto, siamo tranquilli non siamo in ansia abbiamo una squadra competitiva per cercare di raggiungere quello che è il nostro obiettivo che è di ricostruire e ripartire raggiungendo la Champions quindi siamo tranquilli e consapevoli che sarà complicato, che c'è tanto da fare ma siamo consci della nostra forza e di quelle che sono le nostre caratteristiche Giovanni ti strappo un sorriso l'ultima volta che ti ho fatto la domanda siamo andati su striscia la notizia quindi togliamo, ti ricorderai no ti chiedo in questi cinque anni da capitano se in particolar modo nell'ultima stagione due anni scusami, sì vabbè poi giocavi anche tu al posto di Amsic spesso eri capitano no allora no ti chiedevo se in quest'anno in particolare l'ultimo anno ti sei Aspen non ha risposto Di Lorenzo no 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 ragazzi questa è la cosa qua stiamo perdendo un po' la testa allora quando è arrivato Di Lorenzo Amsic non era capitano ma insigne forse comunque Di Lorenzo è arrivato nell'anno in cui Amsic stava andando via cioè sarebbe andato via a gennaio in Cina comunque Di Lorenzo non l'ha vista proprio la fascia di capitano con Amsic perché c'era insigne vice tutt'al più poi insigne è diventato capitano Kayejon era il suo vice quando Kayejon ha perso i gradi perché se n'è andato il vice capitano è diventato Koulibaly quando Koulibaly non c'era c'erano Mario Rui e Zienischi e quindi Di Lorenzo la fascia di capitano non l'ha mai vista ma infatti scusatemi ricordiamoci che quando fu presa la decisione dopo l'addio di insigne e anche quello di Koulibaly di dare i gradi di capitano a Di Lorenzo ci fu anche un parlare nel senso la gente si chiedeva perché fosse stato scelto Di Lorenzo perché non era quello che aveva più anni di militanza in Rosa c'erano davanti Mario Rui e Zienischi quindi cioè questo si è inventato 5 anni addirittura si ricorda di una esperienza con Amsic che non ha mai avuto Di Lorenzo però allora ragazzi noi ci divertiamo e ci scherziamo io prima ho detto che non volevo prendermela con i giornalisti però ci rendiamo conto le condizioni in cui ci troviamo cioè è normale che il calciatore e il resto dei protagonisti che intervisti non ti prendano seriamente perché tu non conosci il Napoli non lo studi cioè non dico che tu debba conoscere tutta la Serie A tu debba conoscere tutte le squadre italiane per quanto per carità sarebbe auspicabile siccome sei un giornalista ma non conoscere neanche il Napoli la storia recente del Napoli gli vuoi fare la battuta? lo vuoi far sorridere? l'hai fatto sorridere così? complimenti sentito scavalcato nel tuo ruolo ti sei sentito un poco poco apprezzato anche magari all'interno no mai mai e quindi quest'anno riparte alla grande grazie ciao Giovanni ti chiedo in questi primi giorni di lavoro tu magari prima mi sono perso qualcosa ma ti senti di poter dare di più magari abbiamo visto che ti sta provando anche il braccetto il mister ecco in questo nuovo ruolo oppure ti senti ancora di avere la gamba la forza, la voglia di un lavoro a tutta fascia che in un 3-4-3 di Conte è sempre molto insomma usurante ma io non mi sento vecchio ho 30 anni adesso dopo la stagione passata sembra che non ho più gamba non ho più forza non ho più niente per voi io sono pronto a tutto mi metto a disposizione dell'allenatore vedrà lui dove dove utilizzarmi se da braccetto se da quinto per me è indifferente io cercherò di dare il massimo in tutte le posizioni che mi metterà l'allenatore anche questa una veramente ridicola domanda perché basta che vi andiate a vedere l'età dei giocatori che giocano braccetto e esterno basso comunque tornante che dir si voglia in Italia in questo momento e vedrete che ci stanno anche gli ultra 35 anni quindi è completamente indifferente e poi comunque la vogliamo smettere con questa cosa che i giocatori si fanno vecchi a 30 anni che ormai il calcio è popolato di campioni che c'erano 35-36 anni e che stanno ancora sulla cresta dell'onda che prendono 15 milioni all'anno ma saranno stupide queste società che strapagano sti sti centenari sti settuagentari non lo so come devo definire ma è veramente vergognoso davvero c'è i giornalisti che fanno domande che non hanno nulla a che vedere con la realtà ma io non lo so veramente conoscenza dello sport di cui parlano per cui sono pagati per parlare vale zero la loro conoscenza vale assolutamente zero eccoci qua sì buongiorno Giovanni tu e i colleghi della difesa al momento siete rimasti tutti quelli dello scorso anno tantissimi gol subiti purtroppo di testa l'acquisto da parte del direttore di due ragazzi giovani ma alti un metro e novanta come Rafa Marine e buongiorno secondo te potrebbe alleviare questa criticità che c'è stato lo scorso anno grazie ma lo speriamo tutti sicuramente sono arrivati calciatori bravi buongiorno lo conosco di più perché comunque lo vedo anche in nazionale ha fatto benissimo al Torino si è meritato questa opportunità in una grande squadra come il Napoli e poi ripeto insomma non va sempre messa in mezzo la difesa la fase difensiva la fa tutta la squadra e questa è una cosa che sicuramente l'anno scorso ci è mancata ritornare ad essere squadra difendere tutti insieme sacrificarsi per il compagno queste sono caratteristiche che non devono mai mancare in una squadra quindi insomma ci sarà modo di lavorare anche su questo in questo ritiro ma in tutto l'anno con l'allenatore e cercheremo sicuramente di fare media dell'anno scorso Salve Francesco Malaro della Club Italia una domanda al direttore sempre su un po' non sul mercato ma insomma il 10 si gioca il 17 si gioca avremo un attaccante titolare oppure potremo lavorare con Chedira e Simeone che comunque sono due importanti giocatori mentre a Giovanni Di Lorenzo tu hai detto 30 anni e non li dimostri come si suol dire ma Conte già hai visto come sta lavorando? Sì sì ho visto qualche immagine però come ho detto quando si lavora si lavora tanto con criterio è giusto sicuramente ci aspetta una stagione difficile e quindi siamo tutti pronti a seguirlo e insomma sarà un ritiro tosto ma i ragazzi che hanno fatto già il primo ritiro stanno già meglio quindi sarà un problema dei primi giorni e sicuramente ci adatteremo subito anche noi che siamo arrivati adesso io sono qui oggi insieme a Giovanni per dare un segnale di unità visto quello che tra virgolette è successo in questo periodo per farvi capire che siamo tutti una cosa sola e insieme dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con valori importanti detto questo in rosa abbiamo Osimel Simeone e che dirà in questo momento siamo ampiamente coperti poi ripeto ci sono 30 giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni tutto qua grazie grazie a tutti e buona serata ah ok finisce così beh ragazzi vi dico la mia è stata la brutta conferenza che forse mi aspettavo sotto sotto non brutta è attenzione semplicemente tiepida scivra di contenuti Di Lorenzo è stato ermetico tutto abbottonato non ha voluto farsi scappare nulla se non il proposito per questa stagione che ci aspetta che comunque era una cosa che sapevamo cioè certamente Di Lorenzo non rimane per stare a mezzo servizio si suol dire dalle nostre parti no quindi quello era risaputo non doveva dirlo in una conferenza stampa anche Mann molto abbottonato ma lui è comprensibile che sia così avrebbe dato le stesse identiche risposte anche durante una conferenza di presentazione un pochino ma aspettavo di più di Lorenzo che magari per carità avrà fatto anche bene a non esporsi se non voleva certo è stata inutile come conferenza però se mi posso permettere un'autocelebrazione mi scuserete per la presunzione credo che queste reaction alla fine servano soprattutto a questo cioè dare la possibilità a questi contenuti così tanto scevri di di dettagli di poter essere un pochino arricchiti di quelle che sono le nostre conoscenze le risposte che possiamo dare anche per rendere più interessanti alcuni passaggi perché altrimenti davvero c'è poco da raccogliere se non il linguaggio del corpo se non alcune alcune risposte un pochino più piccate che di Lorenzo ha usato anche manifestando il suo disappunto per alcune vicende soprattutto per come a quanto pare viene trattato come si sente trattato dalla stampa e dai tifosi come un giocatore sul viale del tramonto però per l'appunto diciamo che questa conferenza stampa mi conferma ancora di più come ci sia un bisogno delle reaction perché le reaction arricchiscono e danno delle considerazioni un pochino più profonde che invece la conferenza stampa pura dura e cruda non riesce a dare detto questo io vi saluto vi mando un caro abbraccio mi raccomando mettetevi in piace commentate fatemi sapere cosa ne pensate non soltanto delle mie parole ma naturalmente anche quelle di Mann e di Lorenzo e io vi mando un caro abbraccio ciao ragazzi grazie a tutti